Sì, salve, sono Massimo Ferrarini della JoyClean, siamo qua a Cremona Fiera per presentare la nostra linea nuova di stick monodogi dorsolubili che sono detergenti che vanno utilizzati nel campo ristorativo alimentare per produrre e detergere i piani e le superfici dei ripiani dove vengono prodotti gli alimenti e abbiamo una linea ecologica dal punto di vista che richiede l'utilizzo di molta meno plastica, abbiamo inventato nel 2010 gli stick monodogi dorsolubili sono prodotti che vengono utilizzati per detergere qualsiasi superficie dal punto di vista i piani, i pavimenti, i cristalli e anche i genizzanti, i sanificanti per i prodotti alimentari. Nel 2010 abbiamo inventato questa linea per cercare di creare un avvicinarsi a un mondo più ecologico dal punto di vista sia degli inquinamenti, degli smaltimenti, delle plastiche, eccetera. Il prodotto è il principio attivo, negli stick c'è unitamente il principio attivo della detergenza laddove viene inserito l'acqua per creare il prodotto più congeniale per avere delle superfici igienizzate e pulite. La nostra partecipazione a Cremona Fiera è un invito a farci conoscere dal punto di vista nella zona Lombarda, nella zona Emilia Romagna da dove noi proveniamo perché il nostro mercato di questa linea viene per forse questione di abitudine o forse questione di un avvicinarsi al discorso ecologico utilizzato soprattutto da Trento fino a Berlino. Per avere il riscontro e far conoscere la tipologia abbiamo partecipato per la prima volta a Cremona Fiera. Abbiamo finora riscontrato un interesse dal punto di vista della clientela e degli visitatori perché non sono conosciuti. Finora ci viene richiesto le spiegazioni dal punto di vista anche basilare a cosa servono e soprattutto a cosa sono. Siamo qua per farlo, speriamo di avere un buon risultato e un buon successo.